Il segreto. Puntata di lunedì, 18 settembre 2017. Camila, scopre che tutti i suoi concittadini sono a conoscenza della sua gravidanza. Emerge che tra Isma e le Dolores, è nata una amicizia molto particolare. L'uomo, approfitta della ingeguità della pettegola, per spifferarle i segreti di Hernando e Camila. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.